Un gemellaggio all'insegna dell'arte del Made in Italy, quello siglato in Florida fra Margherita di Savoia, comune pugliese, e Miami. Maria Rosaria Gianni. Un accordo importante, il gemellaggio fra Miami e Margherita di Savoia, storico comune pugliese, siglato dai due sindaci, l'onorevole Gabriella Carlucci e Thomas Regalato. Prima tappa portare l'arte italiana in Florida attraverso la mostra La Gioconda Nuda, un evento per raccontare la storia di Mona Lisa dal 500 ad oggi in collaborazione con il museo ideale Leonardo da Vinci. E poi insieme all'arte le idee, le aziende e i prodotti del nostro Made in Italy attraverso scambi culturali e master di studenti. Il gemellaggio con Margherita di Savoia, che ospita fino a metà ottobre la mostra del più grande artista pop vivente Romero Britto, sarà importantissimo secondo il sindaco di Miami Regalato, perché proietta la città della Florida in un circuito d'arte internazionale. È un accordo molto importante perché porterà cultura italiana sicuramente a Miami, ma porterà il turismo, darà la possibilità alle nostre aziende agroalimentari di venire a Miami e di incontrare un nuovo mercato.